Mi interessa, la ricerca è lenta, la ricerca è lenta, da ieri hanno cercato, non so con cosa hanno cercato, sono andato in acqua, se il bambino è caduto lì, non deve essere lì, deve andare avanti, hanno cercato un modo che per me non è sufficiente, stamattina devono arrivare qua alle 8, sono arrivato alle 9, fino alle 9, adesso siamo quasi 10, 10 e mezza, non so che preciso, però adesso per me non è ancora cominciata neanche la ricerca, come fa a trovarlo? Io che sono padre, lo costrugo da salire su, non devo essere lì a vedere, tu posso mio, accetterai questo? Tu posso mio stare qui? Perché il tuo figlio è dentro l'acqua, che stanno cercando, non so, non stanno cercando perché se io sono lì, magari le do fastidio, le dirò perché, perché mi mandano su qua, in modo che posso stare lì tranquillo, non dico che non fanno il loro lavoro, però non sono impegnato abbastanza. Secondo te quindi le ricerche non sono abbastanza, non sono abbastanza veloci? No, non sono abbastanza, la ricerca è lenta, perché se devono arrivare qua alle 8, non so, poteva arrivare anche prima, non si è andato alle 8, devono arrivare alle 8, non alle 9, 10 e mezza, fino ad oggi, fino adesso per me non è ancora cominciato, non so se, lei veniva da giù, no? Lei veniva da giù, però non è ancora cominciata, è quando lo cercano?